ciao ragazze è arrivato l'ultimo pacco di tessuti dell'anno però è lo scattiamo subito insieme allora ne sa che ho esagerato vediamo che cosa è arrivato perché giustamente pesa un quintale il fatto non c'era c'è la scatola finì l'ho fatta da mare pure per l'ultimo passo a Santa Valentina a 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 andiamo aprire il primo a 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 come potete vedere un po' di ricordimento di pannolenci ora la maggior parte allora questo perché a forza di fa tutti quei sottopiatti l'avevo quasi terminato poi ho preso questi sempre tinto in filo a righe bordeaux rosso e tortora perché ci sono dei progetti che vi voglio fare poi ho preso anche questo qui lo io lo chiamo lo zig zag ok è la rifinitura per fare tanti lavoretti ok e poi vi faccio vedere allora il pannolenci che è morbidissimo rosa grigio nero verde celeste verde mela blu azzurro grigio chiaro e rosa chiaro eccoli qua guardate ma sono morbidi ragazzi sono morbidi ma valentina il pile il si pile il pannolenci di valentina è meraviglioso allora poi e questo lo poggiamo di qua aspettate che tolgo le foglie ecco qui ecco qui mentre qui i pensierini dell'ultimo minuto sì e cucine allora guardate all'incontrario guardate questo pannello ecco tutti gli alberi questo sarà un meraviglioso canovaccio qui sopra gli farò una lavorazione non so se faccio in tempo a fare tutorial guardate questo sono bellissimi ragazze guardate forse un po' più indietro vediamo un po' ecco forse così ecco guardate non riuscivo a portare il pacco su nella stanza del cucito perché pesava troppo invece un pezzetto alla volta guardate questo che cos'è che poi questo l'ho preso perché avete visto che ho fatto dei lavori con le balls e questo ci sta veramente veramente bene eh questo invece è un tessuto ecco qua che per fare i bordi l'ho preso mezzo metro però è altissimo per fare dei bordi ad esempio dei canavacci guardate una fantasia bellissima ragazzi bellissima però ha un'altezza molto importante quindi mezzo metro questa gabili gobili o membroglio sempre tanto lo sa non lo metto sopra iscritto ve lo scrivo così non faccio figure perché la sapete che la mia testa non funge guardate guardate questo che cos'è con la lamina in oro è bellissimo bellissimo anche qui abbiamo un'altezza importante cioè anche quando ha un prezzo diciamo però uno ne prende un metro e a tutta l'altezza quindi ha voglia a lavorare eh aspettate che se no sto a mucchiare a mucchiare poi ci vanno sette persone per portare su le cose e questo con le stelle di natale vabbè non lo apro tutto tanto si vede benissimo guardate che cos'è che poi questa questo tessuto qui a parte ci possiamo fare i cuscini un bel runner insomma tante cose non voglio svelare nulla e non dobbiamo rinforzare perché già questo è bello sostenuto come tessuto eh quindi magari se uno va a mettere il prezzo cioè il costo un po' di più sul sul tessuto poi ce lo ritroviamo perché la teletta eh quella termadesiva ha un costo le imbottiture ne hanno un altro quindi comunque se andate a fare un poi un conteggio vale la pena allora poi ho preso l'aiuta colorata rossa questa con i filetti in oro che è meravigliosa e questa qui verde perché ho un'idea spettacolare questa la facciamo a breve e poi il dulcis in fondo ora vi verrà la nausea ho preso tutta la pezza una pezza intera di questo tessuto che è cotone aspettate perché questo che pesa un quintale così lo lascio sul tavolo di lavoro aspettate ragazzi oi marì oi marì mi sono persa pure le forbi giù che erano tante sono state travolte da un insolito testino ah eccole io non ho pazienza se sta levando scotch ecco qua ragazzi piano piano vi faccio vedere eccolo qui allora questo qui è cotone tinta unita grezzo e sarà la base di tanti lavori cioè io ho tante tanti tessuti lavoreremo anche perché quando volete risparmiare vi conviene sempre fare un acquisto diciamo importante e poi andiamo a fare le rifiniture con i tessuti colorati quindi che ne so dovete fare una tovaglia poi ci andate a fare le rifiniture colorate ma questo lo vedremo insieme nei vari lavori nei vari tutorial che andrò a fare ragazze questa pesa no io non la faccio a portarlo qui sarà un problema allora ecco qua allora ho ravvicinato un po' ragazze per quest'anno acquisti di tessuti stop 2022 questo è l'ultimo acquisto dell'anno mi programmo per il 2023 intanto io faccio toglie cose e cosine a Valentina comunque adesso prestissimo vi farò vedere le idee che ho con questo tessuto ma c'è tanto 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 da lavorare perché mi voglio divertire e spero di far divertire tutte voi io adesso vi saluto vi do un bacio vi strizzo forte e buona creatività a tutte ma non dimenticatevi mai che vi lovo ciao amiche a presto a presto